buongiorno raga ben ritrovati e benvenuti in questo nuovo video benvenuti come ogni lunedì nel chiacchiere in viola ovvero una chiacchierata di tutte le questioni che riguardano la Fiorentina ovviamente il tema caldo è proprio la partita che si è disputata ieri tra Fiorentina e Atalanta che ha lasciato un polverone non indifferente soprattutto per le polemiche arbitrali che hanno contornato queste partite soprattutto per una presunta simulazione di Chiesa sul rigore poi ha segnato alla Fiorentina e trasformato del momentaneo 1 a 0 e poi la Fiorentina però è andata a rosondare il punteggio grazie al gol del 2 a 0 di Biraghe su punizione ha segnato il gol grazie alla goal line technology io vorrei chiarire diverse cose intanto trovo fuori luogo le polemiche dei dirigenti atalantini visto che alla fine l'anno scorso fu l'Atalanta in ogni caso a derubare la Fiorentina in casa con la Fiorentina che recriminava di due rigori con la Fiorentina con il rigore per l'Atalanta che non c'era insomma quindi l'anno scorso fu la Fiorentina a reclamare in casa con l'Atalanta e Gasperini che cosa disse a fine partita a me non mi interessa degli arbitri io non parlo degli arbitri io penso soltanto a vincere e a giocare invece ieri ha detto è una vergogna che non vadano a vedere il bar e chiede un simulatore e deve pagare quindi mi pare siano due dichiarazioni completamente incoerenti da parte di Gasperini che tra l'altro fa anche una figura cacina come si dice a Firenze a fine partita andando a becchettare con Pioli andando a discutere con Pioli insomma alla fine l'Atalanta comunque dovrebbe pensare a se stesso perché se chiede un simulatore allora il Papu Gomez che cosa fa? il Papu Gomez che cosa fa? fa lo stesso fa lo stesso il Papu Gomez fa tutte le stesse cose magari fa Chiesa Chiesa è il vizio di simulare perché il Papu Gomez ha trascorso tutta la partita in terra ieri comunque in presa diretta il rigore sembrava esserci cioè io finché non sono uscita dallo stadio pensavo che il rigore ci fosse perché in presa diretta sembrava ci fosse comunque il contatto tra Toloi e Chiesa e in ogni caso c'era anche il rigore su Miraias che prima non era stato dato alla Fiorentina quello era molto più rigore rispetto a quello di Chiesa comunque questa vittoria è davvero segno di maturità per la Fiorentina l'Atalanta è vero ha giocato molto meglio l'Atalanta ha messo sotto la Fiorentina come ho detto ieri per grande parte della partita però la Fiorentina ha saputo soffrire la Fiorentina ha saputo rialzarsi la Fiorentina ha saputo resistere a tutti gli attacchi dell'Atalanta grazie al portiere, grazie alla difesa e alla fine è riuscita a tirar fuori proprio con l'orgoglio, con il cuore e con l'anima è riuscita a portare a casa questa vittoria una vittoria probabilmente che sul piano del gioco non è meritata neanche a livello di tiri, a livello di azioni ai punti, insomma secondo me l'avrebbe vinta l'Atalanta però il calcio è anche questo comunque vincere così in casa con l'Atalanta giocando male, soffrendo, non essendo brillanti appunto patendo così vuol dire che comunque sta nascendo qualcosa di importante questa è una vittoria proprio da grande squadra per la Fiorentina tanto se vuoi lottare comunque per le posizioni alte di classifica tante partite, le devi vincere anche così per quello secondo me è un segnale in ogni caso positivo per la Fiorentina ma soprattutto anche il fattore campo sta diventando fondamentale per la Fiorentina il fattore franche sta diventando il vecchio fortino franche dove anche comunque gli arbitri hanno un certo timore anche grazie alla pressione magari messa dai tifosi comunque anche ieri il pubblico è stato trascinante direi perché il tifo è stato incredibile nelle ultime giornate comunque i tifosi si sono stretti davvero accanto a questa squadra i tifosi comunque credono in questo progetto dei giovani credono in questo nuovo progetto dei della valle che sta andando avanti davvero molto molto bene e infatti il pubblico sembra davvero che sia rimasto conquistato da questa squadra che davvero sta facendo affezionare tanti tanti tifosi della Fiorentina che invece in estate magari avevano contestato comunque c'erano stati altri malumori la Fiorentina comunque ancora è ovvio che non deve pensare alla classifica però insomma uno guarda la classifica dopo sette giornate e accanto alla Fiorentina c'è la voce terzo posto quindi vuol dire che comunque si è partito molto molto bene in campionato ma soprattutto in casa le vinte tutte in casa le vinte tutte con la Spal con il Chievo con l'Udinese con la Sampdoria non saranno grandi avversari però quattro partite in casa e quattro vittorie appunto secondo me sta tornando comunque il vecchio Franchi dove è sempre difficile andare a giocare comunque è un campo è un campo dove i tifosi sono caldi insomma difficile da espugnare a differenza degli ultimi anni poi è ovvio io non ammetto che ieri il rigore di Chiesa non c'era però magari c'era quello di Mirallas e ammetto che l'Atalanta ha giocato meglio però insomma alla fine fa parte del calcio come a San Siro comunque era stata la Fiorentina sfavorita ieri magari sì la Fiorentina è stata favorita su quel rigore però comunque c'era un altro non è facile comunque parlare dei sedi però ho trovato comunque molto fuori luogo le critiche appunto da parte di Percassi da parte di Gasperini e tutta la dirigenza dell'Atalanta trovo davvero le accuse su Chiesa molto molto fuori luogo soprattutto perché Chiesa a mio avviso non è un simulatore Chiesa per buttarlo giù davvero ce ne vuole a San Siro come ha detto Mirallas a sua moglie ha dato un calcio che tra poco non gli leva una gamba veramente cioè Chiesa è un lottatore a fine partita arriva con tutti i lividi perché prende delle botte assurde questo ragazzo prende dei calcioni qua e di là perché ha degli strappi in velocità che è l'unico modo appunto per fermarlo e fargli farlo quindi è anche è anche naturale comunque che a volte magari perda anche l'equilibrio per una spintarella perché magari è a testa bassa o comunque è sbilanciato in avanti e ci vuol poco per farlo cascare però trovo assolutamente fuori luogo le accuse che Chiesa sia un simulatore perché secondo me non è assolutamente vero giù le mani da Chiesa perché questo ragazzo secondo me è innocente e non si merita di di ricevere queste critiche che appunto sono sono assolutamente fuori luogo e inappropriate assolutamente per un ragazzo che già sta ricevendo tante pressioni e questa mi pare davvero una bufonata nei suoi confronti in ogni caso la Fiorentina giocherà la prossima partita all'Olimpico contro la Lazio domenica alle ore 15 nella Lazio tra l'altro oggi ho strapolato una notizia dove Luisa Alberto non si è allenato e non ha comunicato niente alla società potrebbe davvero essere un caso ora vedremo come si andrà ad evolvere la situazione nelle prossime ore fatto sta comunque che oggi Luisa Alberto appunto non ha partecipato all'allenamento con la squadra che non si è fatto vedere potrebbe davvero nascere un caso Fiorentina arriva bene a questa sfida la Lazio avrà tanta voglia di rivalza dopo il derby perso con la Roma con Pioli che ritornerà ad affrontare la sua ex squadra secondo me sarebbe una partita davvero molto molto bella è molto intensa quella tra Lazio e Fiorentina le permesse sono buone ragazzi comunque noi ragazzi ci vediamo lunedì prossimo con il chiacchiere in viola voi ragazzi lasciate un commento qua sotto per sapere che cosa ne pensate lasciate tanti mi piace il video condividete questo video iscrivetevi 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 al canale se ancora non l'avete fatto e noi arrivederci e ci lascio e al prossimo video